Finalmente Finalmente Potremmo non missare però Mi vorrei tanto essere Sto inizio di tre litro fase Un grande In piano Perciò stanno entrando Tutto proprio Non scalizzo Sbagliato Non so 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 Bellag Che tira Eh? Cosa è che devo andare? Non so Non so Non so Non so Non so Non so Oh Voglio vedere No 0-6 John da 26 0-0-6 Si Che bello 12 miss Allora vediamo Ok No, no, lascia tutte queste cose del mio corpo, chi se ne frega. Ok, ok, ok. 9%, ok. Ok. Vediamo Anna Mike cosa ne pensa di questo score. Eh, sono le 500 aziende più grandi di StoPioli. Ah. È una stock... Oh, che bella. Anna Mike piace, sono contento. Non ti ho detto, però...